L'assessore regionale Silvio Paolucci ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa all'emiciclo il bilancio 2018 della Regione Abruzzo. Si tratta del documento che rega i dettagli dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 inviato al Consiglio regionale per la discussione e la successiva approvazione. Un bilancio solido che introita ovviamente la norma salvabruzzo che ci permette di diluire il disavanzo ma che soprattutto coglie alcuni aspetti davvero molto importanti. Intanto noi abbiamo ridotto il disavanzo e l'indebitamento e a fine legislatura parliamo di un ammontare di almeno 500 milioni di euro. Il tutto nel mentre si riallinea anche documentalmente il bilancio e tutte le sue componenti ma garantendo i servizi al trasporto sociale persino incrementando alcune risorse sul sociale. Credo che da questo punto di vista si sia fatto davvero un grande lavoro che non ha compromesso tutti quei servizi che riguardano studenti, lavoratori, disabili, persone fragili, anziani. E allo stesso tempo ha conosciuto un abbattimento di questa montagna di debito e di disavanzo che ha ancorato purtroppo la Regione Abruzzo a risorse molto strette nel corso di questi anni.